Sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione, sul maremoto per diffondere la cultura della prevenzione, la consapevolezza e aumentare la capacità di autoprotezione. I volontari della protezione civile sono scesi in piazza in tutta la Toscana con la campagna informativa Ionorischio, giunta alla nona edizione, appuntamento voluto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Qui siamo a Pistoia, nella piazza del Duomo, una delle piazze scelte per informare i cittadini, con schede create ad hoc, cartine del territorio, con le aree più a rischio alluvione e una linea del tempo che racconta gli eventi alluvionali avvenuti nel Pistoiese. Il cittadino diventa così parte attiva del percorso di protezione civile. Le piazze crescono di anno in anno perché cresce la consapevolezza che i cittadini sono parte attiva del sistema di protezione civile e che hanno diritto e necessità di conoscere tante informazioni e soprattutto quelle buone pratiche da seguire in caso di evento, che spesso sono piccoli accorgimenti ma che consentono in casi molto complessi di salvare vite e di preservare anche il patrimonio. I volontari sono stati formati attraverso un corso dedicato per comunicare il rischio e indicare le buone norme di comportamento in caso di evento calamitoso. È proprio questa la parola chiave, informazione, sapere informare in un breve tempo i cittadini su come a sua volta loro possono essere informati sui rischi alluvioni, su cosa fare fin da subito, fin da ora, per essere capaci a fronteggiare questi eventi alluvionali. Specialmente rispetto al rischio alluvione, la maggior parte delle morti che avvengono a causa di eventi alluvionali sono dovute a comportamenti errati. Posso citarne ad esempio uno che è quello emblematico, il fatto di entrare in un sottopasso allagato, molte volte purtroppo in Italia è stato causa di morte. Unica in Italia, la Regione Toscana ha fornito ai volontari comunicatori un tesserino identificativo da utilizzare durante la campagna per facilitare la cittadinanza a comprendere chi sia il loro interlocutore e quale sia il ruolo all'interno della campagna. Grazie a tutti.